buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale come alcuni di voi stanno perché erano in attesa l'ecosistema di cadena lancia il suo suo per il suo dex ovvero cadex ma prima di andare a vedere un tutorial inerente a cadex andiamo a vedere come interagire con questo ecosistema ovvero con un wallet non custodia che si chiama x wallet in questo breve tutorial andiamo a vedere come scaricarlo andiamo a vedere che cos'è questo portafoglio e come settarlo prima di cominciare vi invito come sempre ad iscrivervi al canale per supportare il mio lavoro e doni bianca la nostra community telegrana trovate tutti i riferimenti in descrizione a questo video e ora andiamo a vedere che cos'è e come funziona x wallet ufficiale di x wallet arrangio legibile all'indirizzo x wallet punto cadex punto com mi lascio comunque come sempre il link in descrizione per evitarvi di andare a cliccare su link e scam che potete trovare sui motori di ricerca che cos'è x wallet è un wallet non custodia esattamente come meta mas che anche se avrà delle funzioni magari più evolute per quanto riguarda l'ecosistema di cadex è disponibile anche su applicazioni per google play store per apple store compatibile con i browser di chrome quindi di google e brave come dice l'home page stessa accesso alle daps per quanto riguarda l'ecosistema di cadena gli nft cross chain transfer quindi trasferimenti cross chain possiamo inviare e ricevere ovviamente cripto valute comprare e vendere possiamo anche inoltre andare a vedere una road map e ci troviamo esattamente qua nel simbolino rosa dove c'è la bandiera dove hanno rilasciato l'applicazione per mobile e successivamente integrano anche le valute fiat all'interno del di questo portafoglio la versione 2 gli swap diretti all'interno di questo portafoglio la possibilità di interagire con con gli nft anche di effettuare dei prelievi direttamente in valuta fiat e poi in ultimo di ricevere un audit queste al momento sono le dap che si possono utilizzare con i suoi lette quella che ci interessa di più al momento e cadex poi andremo a vedere nel prossimo tutorial quindi andiamo più in basso selezioniamo se vogliamo scaricarlo per chrome brave o per applicazione mobile si clicca in questo caso su chrome si avvia l'estensione si clicca su start now e si procede con l'impostazione del wallet si accetta il termine d'uso in questo caso noi possiamo fare un restore di un wallet precedentemente creato come tramite la frase di recupero oppure creare un wallet da zero in questo caso crea un vuole da zero inserisco la password clicco su create nella pagina precedente che non vi ho mostrato per motivi di sicurezza appare la mia chiave di recupero la chiave segreta che non va condivisa va salvata in posti sicuri mai condivisa e in questa schermata vado a verificare per appunto la chiave di recupero andando a impostare le relative parole nelle relative posizioni frase di recupero impostata correttamente inserisco la mia passo e procedo ed in questo caso si accede al portafoglio x wallet in alto possiamo vedere il nostro indirizzo da condividere se vogliamo ricevere delle valute sia tramite un exchange oppure a un nostro amico che ci vuole mandare dei togono delle valute cliccando sul menu a tendina abbiamo la possibilità di creare un nuovo wallet oppure di importare un wallet esistente in alto possiamo fare lo switch sulla test net il cadex devnet ma noi ci interessa solo la main et più sotto possiamo inviare tokeno valute che deteniamo in questo wallet su ricevi possiamo appello appunto andare a sbloccare il nostro qr o comunque il nostro account name che l'indirizzo di recezione da andare a copiare o su un exchange per ricevere adena o altri wallet oppure da inviare a un nostro amico come detto in precedenza in tantissimi altri video ma lo ripeto ogni cene ogni wallet non custodia al relativo a una cene a un token proprietario della c in stessa che serve per pagare le commissioni o per interagire con le applicazioni decentralizzate ethereum a et come valuta by na smart chain a bnb x wallet che dell'ecosistema cadena a k d a cadena e quindi per interagire con questo wallet bisogna detenere cadena sia per l'interazione con le d'app ma soprattutto anche per il pagamento delle figli pur piccole che siano bisogna detenerlo nel portafoglio esattamente come metamask cliccando su ad more token possiamo andare a inserire un input contra address quindi l'indirizzo del contratto e viene automatico viene impostato il simbolo e possiamo registrare un token che pur avendo all'interno del portafoglio non si visualizza in modo automatico cliccando su impostazioni possiamo andare a aggiungere editare rimuovere comunque gestire il nostro dei un contract uno smart contract andare a selezionare il network perché si può eventualmente andare poi aggiungere più network esattamente come metamask andare ad esportare la nostra chiave segreta oppure contattare l'assistenza ora supponendo di voler inviare da un exchange a x wallet dei cadena come si fa in questo caso io mi collego a binance vado su wallet wallet spot perché detengo un paio di cadena da poter inviare al wallet acquistate precedentemente clicco su wallet spot aspetto che si carica la pagina clicco su preleva vado a selezionare la valuta di mio interesse in questo caso cadena torno su x wallet clicco su ricevi vedete che mi genera il wallet lo copio e lo vado incollare su indirizzo in automatico binance riconosce cadena mi dice l'indirizzo del portafoglio corrisponde automaticamente alla rete corrispondente quindi siamo sicuri di usare la rete corretta si clicca sul quantitativo che si può e si vuole inviare a x wallet clicco su invio e aspetto che il mio invio il mio prelievo verso x wallet venga processato come vedete 3.92 cadena avevo quattro cadena da inviare ci sono le piccole network i quindi riceverò 3.92 cadena nel mio wallet non custodial in pochi secondi anzi un minuto e mezzo forse sono già arrivati nei 3,92 kda sono in pending comunque li stiamo vedendo già sul wallet e arriveranno in accredito bene direi che per questo piccolo tutorial è tutto nel prossimo video andremo ad interagire con cadex vedremo tutte le sue funzionalità se avete domandi e consigli o volete delle recensioni particolari scrivetemi nei commenti fatemi sapere tutto quello che volete e vi risponderò non appena possibile bene come sempre siamo arrivate alla fine di questo contenuto e spero che il video vi sia piaciuto e lo abbiate trovato utile mi raccomando per supportare il mio lavoro iscrivetevi al canale è un'azione che implica veramente un secondo della vostra vita è per me ha un valore inestimabile vi ringrazio ancora una volta per l'attenzione e vi rinnovo l'appuntamento al prossimo video ciao a tutti grazie mille